Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro ArtKeyBarsenQuink, sono Commentary, annunciato un nuovo weekend di XBDogP da parte della Treyarch, e inoltre in futuro ci saranno, probabilmente settimana prossima, altre informazioni per quanto riguarda i contratti, che vi ricordo arriveranno anche su Zombie, vi lascio il video che ho fatto riguardo in descrizione, sperando quindi possano fornirci nuovi metodi per ottenere riserve, e sperando anche di trovare le armi nuove che hanno messo a punto soltanto nelle riserve, quindi sarebbe veramente un peccato dover per forza rimanere lì a farmare comunque questo tipo di riserve in maniera molto indiretta, perché appunto con i contratti non penso ce ne diano così tante per trovare quelle armi, quindi speriamo anche in futuro possano o mettere direttamente in un mercato nero, speriamo presto, magari con la prossima operazione che comunque non è troppo lontana, manca ancora giusto qualche settimana, o altrimenti comunque le Weapon Bride che ci sono tipo qua a livello 25 di questa operazione, del mercato nero, darci delle o armi MK2 o armi nuove, magari metterle un pochino più spesso, o come ricompense magari per contratti veramente grossi, o tipo come ricompense per completà 10 contratti, quindi ci vuole un po' più di tempo, magari appunto sarebbe un metodo buono, perché comunque quelle armi alcune sono veramente forti, comunque armi storiche, perché comunque il peacekeeper di Black Ops 2 è un'arma famosa non troppo su zombie ma sul multi, mentre tipo il balistico è già una cosa un pochino più importante. Quei da 3 ci hanno detto che appunto settimana prossima sul loro blog avremo più informazioni, sperando anche appunto in una data di uscita, perché per adesso parla soltanto di come sono fatti, ma per adesso ancora appunto non sappiamo ancora quando avranno aggiunti nel gioco, speriamo il prima possibile. Per quanto riguarda l'XP, doppia hanno risposto a un altro commento, hanno detto doppia xp per molti giocatori, zombie, league play e doppia i meriti per blackout. Ovviamente soltanto doppia xp stavolta, anche se appunto l'ultima volta c'è stato doppia xp, doppia xp per le armi, doppio plasma, tutto assieme è stato veramente assurdo. Purtroppo non hanno ancora dato una data, almeno quando sto registrando questo video, per cui magari ci succederà poi un'immagine, la metterò da qualche parte, magari con un post qui su YouTube. Comunque molto probabilmente partiranno alle 19 o 20 di sera, non ho ancora ben capito come funzioni bene questo reset, perché appunto con l'ultimo orario, fuso d'orario, si è cambiato tutto quanto, non è ancora ben sistemato nel reset normale del gioco, nel reset delle sfide giornaliere. Quindi è un po' così di venerdì, quindi il 21, e probabilmente finiranno invece lunedì sera sempre 19 o 20, o magari prolungheranno nuovamente fino a martedì, sarebbe comunque un po' interessante. Io sicuramente vedrò di mettermi avanti qua a Dark Matter, che ho quasi finito, ne ho parlato nel video degli emblemi di livello 900. Se riesco a finirla bene, mi mancano giusto i cecchini, che comunque sono a buon punto, la Welling e il Bowie saranno la parte più fastidiosa. E sicuramente arriverò al mille, in questo momento solo al 949, quindi solo 51 livelli, e altre volte, facendo soltanto colpi alla testa o comunque partite molto tranquille, ho fatto più di 120 livelli nel weekend. Quindi sono abbastanza sicuro di fare il mille, ci sarà poi un video particolare a riguardo, sia per il mille, sia per gli emblemi. Invece poi mi dedicherò appunto a finire a Dark Matter, se no lo farò questo weekend, se no ci sarà video anche su quella. E poi sarà il grosso grinding per tutte le sfide, fare anche Dark Matter sulle armi aggiunte col mercato nero, che sono veloci, però c'è probabilmente un pochino di tempo sempre. E inoltre tutte le Dark Ops, che sarà la parte più lunga, sia perché non ho ancora fatto nessuni strike di Black Ops 4, sia perché Zeus dovrebbe metterci a fare le difese di Voyager of Despair, che sono a 415, quindi ci sarà veramente molto tempo. Però appunto, siamo un po' pazienti, Zeus non è quello che sta giocando tutti i giorni, invece come al solito concentro tutte le mie partite e il mio grinding in giusto 3-4 giorni durante il weekend, in modo da un po' massimizzare tutto quanto, anche se ovviamente per quanto riguarda Dark Matter le kill sono sempre le stesse, mentre appunto per i livelli avere gli XP doppi rende tutto molto molto più veloce, infatti sono già quasi al 1000 che siamo a giugno, mentre con Black Ops 3 ho finito i livelli quando era già uscita Revelations già da un po' di tempo, poi vabbè Black Ops 3 c'erano delle mappe veramente assurde, tra cui Shadows. Anche qua ci sono dei metodi veramente forti, però appunto a Dark Matter è un'altra cosa davvero importante, e poi appunto tutte le sfide, Dark Ops e tutto il resto che c'è da fare su Black Ops 4 rende il grinding un po' più lungo, perché appunto non ci sono soltanto livelli e basta. Una volta completati i livelli sono sicuro che magari prenderò a giocare a zombie molto di più durante un periodo normale, non per forza durante questi weekend, sia perché di base gioco sempre ovviamente per gli skip giorni del mercato nero per fare lo skip dei 15 round, più la sfida se è abbastanza fattibile, se non è troppo lunga, ma poi appunto dato che il resto che mi manca bisogna giocare normalmente, non per forza appunto durante un weekend di XP doppi, quindi aspetterò magari un altro weekend di XP armadoppi per fare tutte le armi a livello 2, preseggiandole tutte al massimo, compresa anche appunto quel del mercato nero che sono un po' indietro, vorrei avere tutti gli accessori appunto ad Dark Matter su tutto in modo da avere proprio una bella completezza, invece le sfide ci avrò stanto un po' di grinding per alcune che sono veramente fastidiosi e ripetitive, però appunto voglio sbloccare sempre tutto quanto, quindi poi quando mi verrà voglia piano piano tornerò a giocare a zombie, perché comunque mettono questi weekend di XP doppi tipo ogni mese, ogni qualche settimana, quindi io appunto faccio questi stacchi di un po' di tempo, poi torno a nerdare quei paio di giorni, mentre appunto non giocando più durante quei periodi probabilmente quando mi tornerà voglia dopo un po', che comunque a un certo punto mi torna sempre, metterò avanti con altre cose. Sono comunque a buon punto, ovviamente per esempio le sfide delle modoperatori con tutte le uccisioni che sono 10.000 per ognuna sono parecchio lunghe, poi appunto ripeto le Dark Ops saranno un pezzo veramente grosso, però piano piano si fa tutto quanto, c'è ancora molto tempo, mancano ancora due DLC base, poi forse appunto sempre un DLC 5 si parla sempre di un Zombie Chronicles 2, le solite cose, e poi vediamo se il supporto proseguirà per Black Ops 4 anche dopo l'uscita di Modern Warfare quest'anno. Fatemi sapere come al solito ragazzi voi che state facendo in questo periodo per zombie, cosa volete fare se livelli, Dark Matter, o appunto anche voi sfide Dark Ops, quel tipo di cose giusto anche per completare tutto quanto e magari l'emblema abilità della visita del 100% che il mio amico Zeus ha, ma l'ha detto lui che ha anertato per molto tempo il gioco, caprendete, soltanto a zombie dove l'ho fatto, lui ha fatto il Dark Matter già sul muto giocatore, poi si è iniziato a farlo anche su zombie, e lui ha detto che non la farà su Black Ops, ma ho i miei dubbi, secondo me a un certo punto si romperà quando non avrà più niente da fare, quindi la faccio anche da Dark Matter su Black Ops, è un matto peggio di me probabilmente. Spero come è stato ragazzi il video ci sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo, un abbraccio, ala. Grazie. Grazie.